Mario Schettino è il nuovo coordinatore della consulta giovanile, un'elezione importante, un giovane che è già nei giovani democratici e ha avuto ruoli importanti in seno anche agli organismi giovanili. Sì, ieri si è svolta la riunione di insediamento della consulta giovanile e diciamo alla sua seconda costituzione, perché due anni fa è nata e è stata istituita dal Comune dell'Aquila, ha avuto due anni di rodaggio con gli scorsi mandati. L'attuale consulta adesso sta vedendo di rilanciarsi, di ritornare un po' al centro non solo del dibattito pubblico ma anche delle dinamiche cittadine. Abbiamo necessario bisogno come generazione di avere un luogo di rappresentanza dove ci sono tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta, che rappresentano quasi tutto il mondo giovanile della città dell'Aquila, con le rappresentanze di scuole e università. Questo è un grande organismo voluto dai giovani della città dell'Aquila ben tre anni fa, nato con un percorso partecipativo e adesso sta prendendo proprio la sua struttura. Quali sono i compiti di una consulta giovanile? Allora, la consulta giovanile oltre a rapportarsi con le istituzioni, a fare anche da filtro e da stimolo per le associazioni presenti in città e per i gruppi di ragazzi che vogliono interessarsi delle dinamiche cittadine, ha principalmente questo compito, rappresentarli. E purtroppo in questi due anni, per problematiche diciamo anche di capire cosa fosse questa consulta, è stata un po' bloccata, non nascondiamocelo. Il nostro obiettivo sarà quello di rilanciare insieme a tutti i componenti e a tutti i ragazzi di proprio l'azione della consulta, ricordando che però le sedute sono sempre aperte e sono sempre disponibili alla partecipazione di chiunque voglia esprimere la propria idea, il proprio progetto e le proprie opinioni.